Sunset Sunset è un orologio da parete che a differenza degli orologi tradizionali dove l'informazione è basata su un'immagine astratta e convenzionale rispecchia un fenomeno naturale di ordine cosmico. Il punto rosso rappresenta la posizione del sole e del cielo in questo preciso istante. Allo stesso tempo indica l'ora esatta leggibile nella barra inferiore delle ore. I minuti si leggono facilmente su questo quarante circolare. Il punto si muove lungo una sinusoide che corrisponde al corso del sole nel cielo durante la giornata. Quando il sole scompare sulla destra, riappare immediatamente sulla sinistra per continuare il suo ciclo. La linea di orizzonte evidenzia l'ora dell'alba e del tramonto, nello stesso tempo anche la lunghezza del giorno e della notte. Una volta al mese si sposta manualmente l'orizzonte sul mese in corso, indicato sulla scala verticale. Quando entra in vigore l'ora solare, stiva, basta fare slittare manualmente sulla sinistra la barra delle ore. Nel portare l'immagine del cielo dentro una stanza, Sanse diviene un oggetto di mediazione tra l'interno e l'esterno, tra l'intimità dello spazio personale e la vastità della natura. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti